Tamponi nelle scuole, effettuato il primo screening in una primaria. Truffata coppia di coniugi, incastrato un consulente finanziario. Assistenza domiciliare, ecco un nuovo servizio per anziani e malati. Non dimenticare le foibe, le marche celebrano il giorno del ricordo. Buona serata, questa è l'edizione di mercoledì 10 febbraio. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale occupandoci di prevenzione al Covid-19. Oggi a Pesaro c'è stato per la prima volta lo screening di massa all'interno di una scuola primaria. Sabato invece toccherà per la prima volta ad una scuola media. Vediamo. Prevenzione al Covid e scuola sono ormai due temi legati a doppio nodo. Dopo due settimane di screening dedicato alle scuole superiori voluto dal Comune di Pesaro, oggi sono scattati i primi tamponi di massa in un istituto primario. Si tratta della scuola di Via Fermi in cui per tutto il pomeriggio sono stati chiamati al tampone centinaia di alunni in una giornata cominciata da 120 docenti e collaboratori scolastici dell'intero istituto comprensivo Leopardi, insegnanti ben disposti alla procedura. Noi speriamo che questa giornata riesca un pochino a farci riprendere il lavoro nella normalità perché siamo un po' preoccupati e insomma è un grande risultato quello che abbiamo avuto di ottenere questo momento e insomma la risposta è tanta da parte dei docenti, speriamo anche da parte delle famiglie e ci facciamo un grosso in bocca al lupo. Io penso che sia il posto fondamentale per cercare di tornare a lavorare con tutta tranquillità. Noi fondamentalmente pensiamo in primis alla salute dei bambini che sono la parte fondamentale del nostro lavoro e però si muove anche alle nostre famiglie, ai nostri cari, alle persone che ci sono accanto. Lo screening è stato accolto dall'Asur dopo la richiesta dell'istituto Leopardi che comprende la scuola di Viaferme nella quale si contano una ventina di casi positivi attualmente fra il personale scolastico. Per quanto riguarda gli studenti sono tre le classi poste in quarantena. Lo screening dirà se il contagio si è allargato o meno anche agli alunni. Sono molto contenta perché è il primo istituto che è riuscito a proporre questa cosa al proprio personale scolastico e mi riferisco chiaramente a un istituto di scuola di primo grado. Quindi credo che sia un'opportunità ottima per i docenti, per gli alunni, proprio per dare proprio un fermo immagine di quella che è la situazione presente. Primo screening in una scuola di primo grado, ma è dietro l'angolo anche il primo in una scuola media. Sabato toccherà all'istituto Gaudiano. Sabato tutto il plesso Gaudiano, quindi scuola secondaria di primo grado, potrà essere sottoposto a screening. Lo screening è aperto agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale dell'istituto. Questo in conseguenza di alcune classi che sono state poste in quarantena. Attualmente ce ne sono tre, una rientra domani. E' un'iniziativa che io apprezzo tantissimo e che spero che sarà accolta da tutta la mia popolazione scolastica perché ci permetterà anche di fare un punto zero e capire e fotografare l'attuale situazione sanitaria. Ed ora il consueto spazio dedicato ai dati riguardanti il coronavirus. E' salita dall'8% di ieri al 12% di oggi l'incidenza percentuale dei contagi al Covid-19 rispetto ai tamponi processati. Nelle ultime 24 ore ne sono stati testati 5.583 tamponi, di cui 3.477 nel percorso nuove diagnosi. I positivi sono 421, di cui 83 in provincia di Pesarurbino. Nella giornata di ieri si sono registrate anche 12 decessi di persone contagiate al Covid-19. Non si è fatta attendere la replica della giunta regionale alle supposizioni avanzate dalla parlamentare del PD Alessia Morani, in merito ad un presunto rifiuto della giunta a Quaroli ad accogliere i 55 milioni ministeriali destinati al project financing dell'ospedale unico. Secca la replica degli assessori regionali alla sanità e all'edilizia Filippo Saltamartini e Francesco Baldelli, che hanno puntualizzato come l'amministrazione punti a raggiungere lo stanziamento di 105 milioni di euro, che consentano di partire con la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro e non con l'ospedale unico. Si è deciso dunque di inseguire lo stanziamento più cospicuo previsto dalla finanziaria 2019 e che esclude in automatico quello del project financing. Ed ora passiamo alla cronaca perché una coppia pesarese con un passato professionale sulla scena cinematografica romana è stata vittima di una truffa che ci viene illustrata in questo prossimo servizio di Daniele Sacchi. Gli aveva indotti a vendere appartamenti e opere d'arte di pregio al di sotto del valore di mercato e gli aveva pure suggerito operazioni finanziarie spericolate come convertire in lingotti d'oro diverse liquidità dai conti correnti. Così la guardia di finanza di Pesaro ha scoperto una truffa ai danni di una coppia di coniugi pesaresi che aveva fatto fortuna nella scena cinematografica romana. Lui come regista e sceneggiatore, lei come produttrice televisiva. Scena romana in cui i due consorti si sono affidati ad un quarantenne che millantava capacità nel trattare questioni finanziarie e a quanto pare anche enormi capacità persuasive. Tant'è che i due coniugi si sono affidati incondizionatamente all'uomo in questione dandogli carta bianca per un piano di risanamento economico. E così è stato venduto un raffinato appartamento romano, opere d'arte nonché spericolate operazioni bancarie. Una fede mal riposta perché i due artisti si sono ritrovati depredati di proprietà immobile e di liquidità. Il sedicente consulente si è reso irriperibile ma non all'occhio della guardia di finanza di Pesaro che assieme al Tribunale di Roma è riuscita a incastrare il truffatore e recuperare il mal tolto. Al termine delle indagini è stato quindi possibile recuperare l'intero patrimonio sottratto attraverso il sequestro delle quote societarie e degli immobili di proprietà delle vittime, del valore di circa 2 milioni di euro. L'ex complesso psichiatrico San Benedetto da anni è fermo su progetti mai decollati. Sul tema si espone ora anche la Regione Marche con l'assessore Stefano Aguzzi che avanza una nuova proposta. La vicenda dell'ex ospedale psichiatrico di Pesaro, il San Benedetto, è una vicenda annosa. Questo enorme immobile, sono quasi 15 mila metri al centro della città di Pesaro, è ormai in degrado, inutilizzato da tempo. È di proprietà dell'Asur, quindi della Regione Marche. Più volte è stato un tentativo di vendita sempre andato deserto. Oggi come oggi sia la Regione Marche che il Comune di Pesaro indipendentemente tra loro sono in difficoltà al riutilizzo di questo immobile. Costa troppo, se si pensa tra i 30 e i 40 milioni di euro per un restauro e un riutilizzo. Allora ho incontrato alcuni giorni fa il Sindaco di Pesaro per questo e insieme abbiamo pensato di poter portare avanti unitariamente un'iniziativa. Su questo mi sono preso l'incarico di redigere una proposta e insieme agli uffici urbanistici della Regione Marche abbiamo inviato una lettera proprio in questa giornata al Sindaco di Pesaro proponendogli, secondo me, una soluzione interessante. Che è una soluzione che divide l'area in quattro parti diverse, di cui una parte, quella più interessante che dà sul corso 11 settembre, si prevede un piano di rigenerazione urbana che dovrebbe presentare il Comune di Pesaro, sul quale potrebbero esserci finanziamenti per una sistemazione e poi un riutilizzo ad appartamenti, potrebbero essere ERAP ma anche appartamenti venduti a privati. In questo caso, con questo parziale risanamento, l'ASUR potrebbe procedere a un riutilizzo dell'area immediatamente al retrostante di altrettante 6.000 metri, sono entrambi di 6.000 metri queste due aree, per riportare al centro delle città di Pesaro un poliambulatorio, degli uffici, insomma, riutilizzarli a favore dei cittadini in qualità di ASUR. In questo caso l'ASUR potrebbe vendere le case private che sono su via Mammola Bella, in modo da finanziare in parte anche il suo intervento. In ultima istanza rimarrebbe la parte dell'ex biblioteca, che sono altrettante 1.000 metri, che in questo caso verrebbe ceduta gratuitamente al Comune di Pesaro. Ecco, un riutilizzo complessivo tramite fondi pubblici, in parte fondi anche regionali, diciamo così come ASUR, e in parte privati. Una ristrutturazione complessiva che, se il Comune di Pesaro sarà d'accordo, potremmo portare avanti fin da subito. Parte domani un nuovo servizio di assistenza domiciliare destinato alle fasce più deboli della città di Pesaro. Un progetto ideato dalla Onlus Gulliver e dall'Ail. Vediamo. Un nuovo progetto all'insegna di una città sempre più solidale e più attenta alle esigenze delle fasce deboli. La Onlus Gulliver, in collaborazione con Ail, inaugura domani un nuovo servizio di assistenza domiciliare ad anziani soli, a malati e a persone con impossibilità ad eambulare. Un sollievo in azioni quotidiane necessarie ma spesso gravose, dalla spesa ai farmaci fino al pagamento delle utenze e ai trasporti. Progetto Gulliver-Ail, sottolineiamo, questa collaborazione innovativa che è partita da poco. Servizio domiciliare rivolto alle famiglie in stato di difficoltà sia economica ma anche difficoltà motoria o la famiglia che ha difficoltà di relazioni. Quattro servizi, spesa a domicilio, i farmaci a domicilio, pagamento di utenza all'apposta. Quindi qualsiasi famiglia che è in difficoltà, ripeto, anche non economica ma di movimento, che ha un problema, che la signora Maria non può uscire di casa, chiama la Gulliver 0721 39 58 23. La mattina dalle 9 alle 12, Maria espone il suo problema alla ragazza che risponde e noi in maniera gratuita possiamo andare a fare spesa alla Maria e poi gli portiamo la spesa a casa. Se la Maria è in difficoltà economica e non riesce a fare la spesa, noi abbiamo un paniere di prodotti che portiamo un pacco dono alimentare alla Maria e non paga niente. In più possiamo andare per la signora Maria a prendere le medicine in fermacia, la ricetta dal dottore, possiamo andare a pagare la bolletta della luce dell'utenza in posta, tutti i servizi gratuiti. In più se la signora Maria non riesce a pagarsi il taxi o pagare un'ambulanza per andare all'ospedale a fare delle visite mediche, un esame del sangue, ci chiama e noi gratuitamente la portiamo a fare anche le visite di un ospedale. Ripeto, quattro servizi attivi da lunedì al sabato gratuiti per la collettività, grazie alla collaborazione di AIL con Gulliver e grazie alla Fondazione Cattolica. Gulliver, AIL, Fondazione Cattolica e tanti ragazzi che saranno coinvolti grazie al servizio civile. Sì, il servizio sarà fatto da dieci ragazzi al servizio civile che saranno con noi un anno, in più da un progetto Erasmus fatto con la città di Valenza in Spagna, dove avremo otto ragazze di Valenza che saranno con noi per un periodo di tre o quattro mesi a seconda del caso, che andranno a fare questo servizio. Quindi ragazzi pesaresi con ragazze spagnole in giro per Pesaro con questa macchina da domani per la collettività. Progetto sperimentare su Pesaro che poi sarà largato nei comuni dell'ambito territoriale pian pianino. Un servizio domiciliare che rafforza la rete delle associazioni di volontariato che vede in questo caso l'AIL direttamente coinvolta sull'onda di anni di esperienza nell'assistenza domiciliare. L'AIL viene coinvolta in una maniera più semplice. Abbiamo donato il mezzo per poter fare in modo che la Gulliver possa effettuare questo servizio a domicilio. Come diceva prima Andrea, il Presidente, speriamo che non sia solo il primo, ci sia un secondo mezzo, un terzo mezzo, un quarto mezzo, in modo che questo vorrà dire che questo progetto della Gulliver diventa sempre più grande ed è quello che ci auguriamo un po' tutti quanti. Continua la stafetta di solidarietà a favore delle strutture sanitarie pesaresi. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha donato nuove attrezzature per il valore di 13.900 euro. all'ambulatorio di Ortottica del distretto di via 11 febbraio, finalizzate all'individuazione precoce dei deficit visivi nei bambini fin dai primi sei mesi di vita. Arriva un finanziamento di 896 mila euro dal Ministero dell'Ambiente per il tratto finale del fiume Metauro presso la foce di Fano. Il fiume è stato inserito nel piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. L'assessore regionale alle attività produttive, Mirko Carloni, è stato oggi in visita alla Moretti Forni Spa di Mondolfo, azienda capofila di un progetto finanziato con bando della Regione Marche, che ha permesso di sovvenzionare 29 progetti di start-up e piccole e medie imprese innovative. È stata presentata oggi l'edizione 2021 di Sinfonica 3.0, organizzata dall'Orchestra Sinfonica Rossini al Teatro della Fortuna di Fano. Concerti obbligatoriamente in streaming che cominceranno sabato 13 febbraio con Overtour di Carnevale e domenica 14 febbraio con Napoleone 1821-2021. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che voi telespettatori chiaramente ci inoltrate quotidianamente, per questo vi ringraziamo, al numero di WhatsApp che vedete ora in sovraimpressione. Nei giorni scorsi c'è stata una potatura di piante in Viale Trieste e il video che ci ha inviato Angela Fulvi, nostra telespettatrice, ci mostra come al parco giochi Harry Duran, all'angolo fra Viale Trieste e Viale Pola, il taglio di un albero abbia lasciato appuntiti monconi di legno al suolo, pericolosi per i bambini che corrono fra scivoli e altalene. E continuiamo con le segnalazioni, in questo caso andiamo in zona Villa San Martino a documentare una situazione di degrado, vediamo. Le segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV accendono oggi i riflettori sul degrado in cui versa la pista da skateboard di via Ponchielli nella zona compresa fra via Togliatti, via Paganini, alle spalle del campo da calcio di Villa San Martino. La pista e l'area parco che la circondano versano in uno stato di abbandono allarmante, con rifiuti sparsi in ogni angolo, il tutto a due passi da un'area non certo dimenticata della città, qual è la trafficata via Ponchielli. Ce n'è per tutti i gusti, dai rifiuti pericolosi come vetri di bottiglie rotte, pezzi di legname sparsi qua e là, oltre a sporcizia dei generi più disparati, dai resti di bivacchi e picnic di vario genere, fino addirittura a magliette e indumenti abbandonati. Il bidone c'è, ma è pieno oltremisura. Un luogo dimenticato dalle operazioni di pulizie, ma non dagli skaters della città che regolarmente frequentano questo spazio per ritrovarsi e praticare la loro disciplina. Le piste presenti vengono tra l'altro frequentate nonostante l'accesso non sia così scontato. Ci si può entrare attraverso la cancellata dell'area sportiva di Villa San Martino, quando questa rimane aperta all'attività della società calcistica, ma più frequentemente gli amanti dello skateboard entrano da un buco nella recinzione sulla pista ciclabile di via Ponchielli. Ci si infila, si fa un bel salto all'interno e non manca l'ironia della situazione, visto che qualcuno ha pensato anche di disegnare una scala per agevolare con l'immaginazione entrata e uscita. Grazie come sempre per le vostre segnalazioni. Oggi è il 10 febbraio, si celebra il giorno del ricordo, una data che non dimentica i massacri delle foive e l'esodo dei Giuliano Dalmati durante e dopo la seconda guerra mondiale, con tante famiglie rifugiate negli anni 40 sulla nostra costa adriatica. Pesaro ha celebrato oggi la giornata con testimonianze in streaming proiettate nelle scuole della città. In mattinata una delegazione della comunità, Giuliano Dalmata ed una del comune di Pesaro, hanno anche deposto una corona davanti al cippo del Parco degli esuli a Trebbiantico. Cerimonie anche a Urbino, con la questura provinciale riunitasi per onorare la memoria dell'ex questore di fiume Giovanni Palatucci, deceduto nel 1944 nel campo di concentramento di Dachau in Germania, dopo aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei. Giorno del ricordo, giorno di testimonianze come quelle ospitate dal Consiglio regionale di Ancona, dedicato oggi alla memoria delle foibe. Il ricordo del 10 febbraio 1947 è il ricordo di un diktat, non era un trattato, era un'imposizione all'Italia, che ha perso un'intera regione ai confini orientali e la popolazione di quella regione ha perso i luoghi dove erano nati e vissuti per secoli. Dopo 58 anni questo ricordo è passato da essere riservato i soli esoli a essere un ricordo di tutti gli italiani che ricorderanno adesso l'esodo, le foibe che l'hanno causato e dovrebbero ricordare anche il contributo dato dagli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia alla storia, alla letteratura, alla cultura, alla civiltà e allo sviluppo sociale e economico delle regioni del nord-est e di tutta Italia. Lo ricordiamo dopo 17 anni di giorno di ricordo dove ancora ci sono tante lacune. Ancora questa storia è da una parte poco conosciuta e dall'altra parte è motivo di scontri ideologici e questo non dovrebbe essere. Ai giovani voglio dire di avere fiducia nell'avvenire perché il passato ci deve insegnare a combattere quelle idee che purtroppo pervadono ancora la nostra società in tanti paesi del mondo e bisogna avere il coraggio di affrontarli con fiducia perché il bene vi arriva sempre. E concludiamo con lo sport. Ieri sera in diretta su Rossini TV gli appassionati di calcio a 5 hanno potuto seguire la sesta vittoria consecutiva dell'Ital Service Pesaro al Palanino Pizza contro la Color Max Pescara. Vittoria 3-2 grazie alla doppietta di Cuzzolino e a un bel gol di Borruto. Sabato l'Ital Service sarà di scena a Padova contro il Petrarca. Partita che come sempre potrete seguire in diretta su Rossini TV. E allora davvero complimenti all'Ital Service per queste belle vittorie che ci fa vivere in diretta TV. Adesso andiamo a vedere qual è la programmazione di questa sera su Rossini TV. Vi ricordiamo che trasmetteremo alle ore 21 e 15 appunto un evento, un momento di riflessione organizzato dalla Regione Marche dedicato appunto al 10 febbraio al giorno del ricordo. E poi andiamo a domani, domani giovedì 11 febbraio alle ore 18 e 30 in diretta trasmetteremo la messa che si terrà dal Duomo di Pesaro per celebrare la 29esima giornata mondiale del malato. Quindi seguiteci su Rossini TV in diretta. E poi invece domani sera alle 21 e 15 una puntata da non perdere con Insieme a Canestro. Domani sera infatti avremo Justin Robinson che è il playmaker della VL, Massimo Tonucci presidente della Banca di Pesaro, Camilla Cataldo giornalista del Corriere Adriatico e attenzione attenzione collegato tramite Skype da Rendei, ex giocatore della VL, davvero molto molto amato da tutti i pesaresi. E allora grazie come sempre per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna domani alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini.